Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Al campo di calcio della frazione Villa Mosone ci si allena il cospetto della Basilica della Santa Casa ed è proprio lì che inizia a giocare a calcio un ragazzino sorridente, nato a Loreto da Genetori Marocchini. Stiamo parlando di Walid Cedira, classe 98, e Andrea Capodaglio, il presidente del Loreto Calcio da 20 anni, che lo conosce benissimo, ce lo racconta. Walid ha mosso qui i primi passi. Che bambino è stato e che ragazzo è oggi? Diciamo che è rimasto il bambino di sempre, fin dall'inizio si è visto subito un ragazzo solare, un bambino sempre pronto a stare con gli amici, quindi ha le comitie proprio uno nato per il calcio. Qui si parla di DNA, gente predisposta per certi tipi di sport e Walid ha quel DNA lì, oltre a essere predisposto e anche ben predisposto come ragazzo, quindi verso gli ati, apertura e spoio a toio, qui se vinci in 20 e se perde in 20. Quindi il concetto della squadra ce l'ha avuto subito, c'è avuto la famiglia che è stato parecchio dietro, sempre presente alle partite, specialmente il padre, e lui non si trattava mai a uscire fuori dai binari, quindi un ragazzo serio esercitava lo sport con passione, con vera passione. Tu sei uno dei cari amici di Walid, vi siete conosciuti a scuola o in campo? Prima di tutto ci siamo conosciuti a scuola, poi piano piano io ho iniziato a giocare a calcio, e poi niente, abbiamo sempre giocato a livello giovanile, poi dopo le strade si sono separate. Quando si sono separate? Eh, presto, presto, sin dai giovanissimi, che lui già gravitava nel giro della prima squadra, io rimanevo lì, insomma. Ma da amico non ti diceva niente? No, niente, niente. E tu che cosa gli dici, anche oggi, che è un campione? Eh, gli dico di rimanere quello, il ragazzo che ho, che è sempre stato, perché comunque fa la differenza e lo si vede anche in campo, perché è rimasto umile come prima. Federico è uno degli amici più cari di Walid, si sentono quasi tutti i giorni. Tra lui e il campione c'è lo stesso rapporto di sempre. Si confidano, scherzano, si supportano a vicenda. L'uno non manca mai per l'altro, da Loreto o dal resto del mondo. Sì, perché anche se aveva già spiccato il volo, questo 2022 è l'anno di Walid. A settembre il CT della Nazionale Marocchina lo convoca per due amichevoli e a novembre è nella rosa dei 26 ai mondiali del Qatar. C'è parecchi amici qui a Loreto, c'è la sua vita da adolescente, quindi è nato qui e chiaramente ha tutti i bei ricordi, però chiaramente devi sfruttare questa occasione che si è presentato, questo treno che passa, non passa tutti gli anni. Che si sentirebbe di dirgli, ma proprio da padre quasi, una battuta. Che è un sommaro con le recchie grosse, lo dicevo sempre, però non è vero. È un ragazzo che sfrutta tutte le occasioni che gli si presenta davanti, costringe sempre il difensore a continui recupero e prima o poi, prima o poi il gol lo fa, non c'è niente da fare.